Desidia di una bronzatura potente e una pelle color mattone? Scopriamo insieme la crema bronzante. Io sono Chiara di capellissimo.com e in questo video recensione ti propongo la crema bronzante intensiva di Fondonatura. La crema bronzante intensiva di Fondonatura è ricca di ingredienti naturali e ti consentirà di ridurre i tempi e potenziare la tintarella. Contiene un ipetran, un biostimolante che aumenta la produzione di melanina. La crema bronzante è delicata sulla pelle e previene la secchezza, favorendo l'idratazione. Non contiene parabeni, solfati e profumi artificiali. Quando la applichi si assorbe rapidamente senza lasciare unto. Utilizzo la crema bronzante intensiva per abbronzarmi velocemente. Questo prodotto non contiene filtri, per cui va combinato a una protezione solare. Io la utilizzo insieme al latte abbronzante produttivo sempre di Fondonatura. In breve tempo la mia pelle prende un colore intenso mattone e la tintarella è uniforme duratura. Chi ne pensi di ottenere uno sconto per il tuo primo acquisto? Ottenerlo è facilissimo, ti basterà iscriverti alla lista VIP di capellissimo.com. Per farlo inserisci la tua email nell'apposito box e in breve tempo riceverai lo sconto nella tua casella di posta. E in seguito le offerte per i nostri migliori clienti. Iscriviti subito alla lista VIP di capellissimo.com. Troverai tutti i link giù in descrizione di questo video. Nel nostro sito capellissimo.com puoi trovare e acquistare la crema bronzante intensiva e tutti i prodotti della linea di Fondonatura. Troverai protezioni solari, olio abbronzante dopo sole e una linea di prodotti per capelli. Fondonatura è un marchio molto apprezzato nel sud Italia e utilizzato da parrucchieri e barbieri. Crea prodotti professionali ricchi di ingredienti naturali per la cura e la bellezza dei capelli. Quest'estate ha realizzato una serie di cosmetici solari per corpo, gambe, viso e capelli. Puoi trovare tutti i prodotti della linea di Fondonatura Solair nel nostro sito capellissimo.com. Ti lascio tutti i link giù in descrizione. Sempre nella descrizione in basso ti lascio il link della mia recensione alla crema abbronzante intensiva di Fondonatura, che puoi raggiungere anche dal blog Abbronzatura. Ti aspetto nei prossimi contenuti video del canale di capellissimo.com.